L'assessore provinciale alla salute Luca Zeni precisa che il reparto di chirurgia dell'ospedale di Arco è a tutti gli effetti un'unità operativa di chirurgia generale. Nella graduale e progressiva costituzione del servizio ospedaliero provinciale, scrive l'assessore, la principale e qualificante innovazione organizzativa introdotta ha riguardato la realizzazione sull'intero territorio trentino di un sistema a rete fondato sulle funzioni ospedaliere. In questo contesto, la prima ad essere costruita è quella riguardante l'area chirurgica, in ragione della mole di attività e della complessità e specializzazione delle singole discipline afferenti a quest'area. Si è pertanto stabilito che la chirurgia di Arco faccia parte di quella che è diventata l'unità multizonale di chirurgia generale dell'ospedale di Rovereto, che appunto assicura anche le attività chirurgiche dell'ospedale di Arco. Il dottor Francesco Ricci, precisa Zeni, è pertanto il responsabile dell'attività chirurgica in entrambi gli ospedali. L'assessore, rispondendo a preciso quesito di De Gasperi sull'argomento, approfondisce poi la presenza del responsabile. L'attività di Ricci richiede di norma un accesso settimanale all'ospedale di Arco, il martedì, dove effettua eventuale attività chirurgica programmata.